Ok, eccoci qua. Siamo in diretta. Buonasera a tutti. Benvenuti a un nuovo meetup online della serie di Azure Meetup. Per chi non mi conosce mi presento, sono Luca Congio, sono il community leader di .NET Code, la community che organizza questo meetup. Ogni mese noi organizziamo uno o più meetup. Per informazioni vi consiglio di iscrivervi alla nostra newsletter o anche all'eventbrite dove vi siete registrati per questo evento. La community .NET Code nasce su Roma e siamo molto attivi, collaboriamo con Code Motion e sono ormai, questo è il quarto anno che organizziamo dei meetup mensili. Stasera, come sapete, il meetup tratterà come argomento Cosmos DB e vedremo in particolare una panoramica sulle novità di Cosmos DB e sull'utilizzo di Cosmos, integrando con Cosmos DB anche servizi serverless e i cognitive services. Stasera abbiamo uno speaker d'eccezione che è Michele Arpaia, che è di Microsoft. Ringrazio sin d'ora della sua disponibilità e ci fa veramente piacere ospitarlo. Tra poco si presenterà da solo. Volevo solo aggiungere due parole su come si svolgerà il meetup. Inizialmente ci sarà la sessione tecnica tenuta da Michele, dopodiché una volta terminata la sessione ci sarà lo spazio per le domande. Per le domande mi invito a postare le domande sulla chat. Alla fine del Q&A ci sarà l'estrazione finale con Selfie Lottery e stasera metteremo in palio una licenza di JetBrain, che è lo sponsor di questo meetup e che ringraziamo anche JetBrain per il supporto. Io ho finito, invito Michele ad attivare l'audio e vi auguro a tutti un buon meetup. Grazie, grazie Luca. Buonasera a tutti. È davvero un piacere, tra l'altro questo è il mio primo meetup in Italia. Su un topic, su un argomento a me molto caro, Cosmos DB. Proverò, come Luca anticipava, a illustrarvi un po' alcune novità. Vedremo anche una demo, proveremo a sporcarci un po' le mani. Naturalmente all'interno di un'oretta proverò un po' a stuzzicare il vostro appetito. Poi vi rimanderò alla fine dell'intervento alla mia pagina su LinkedIn, ma anche a GitHub, dove poi alcune cose che vedremo oggi saranno in via di realizzazione su GitHub. Ebbene, mi chiamo Michele Arpaia, lavoro in Microsoft da quattro anni. Sono entrato nel mondo consulting in Microsoft come digital advisor e solo da sei mesi faccio parte di questo gruppo che chiamano Global Black Belt. Ovviamente suscita anche un po' di ilarità. Fondamentalmente è un gruppo molto di EMEA, quindi molto orientato alle soluzioni più verticali della piattaforma Azure. In particolare io mi occupo del mondo data and AI, che è un team composto da una quale decine di persone. Mi presento, non vado a scorrere un po' i vari attributi del file JSON, parlando di database non relazionali, mi sembrava opportuno presentarmi anche con un piglio un pochino più tecnico. Bene. Spot pubblicitario, davvero 30 secondi. Il mio team da poco ha rilasciato un'applicazione che abbiamo chiamato Albero Project per navigare il mare magnum di Azure Data Services. Azure, come sapete bene, è una piattaforma, un ecosistema che offre moltissimi servizi. Quello che vedete sullo schermo è solo una vista dei servizi dati, quindi tutti i database, caching, database relazionali, non relazionali, streaming data, eccetera, eccetera. Ciò che mancava, a nostro avviso, era un modo per navigare questi servizi in maniera razionale, use case driven, quindi se ho dei use case in particolare, come faccio ad atterrare sulla soluzione tecnica dal livello del data layer che è più corrispondente, più adatta a quei specifici requisiti. E naturalmente Cosmos DB fa parte di questo diagramma, di questo ecosistema, però come vedete Cosmos DB si integra all'interno di una piattaforma che va al di là di Cosmos DB. Si integra in maniera, quasi con tutti i servizi della data platform, in maniera nativa. Albro.cloud, vi invito, è una versione 0.1, ci stiamo lavorando, prendiamo feedback, abbiamo una pagina dove raccogliamo i feedback su questo progettino. molto utile, come dicevo, per navigare e un po' dare senso ai servizi di Azure. L'agenda è molto semplice, vi dirò un po', chiarirò velocemente il mondo NoSQL, come nasce, come si incastra all'interno dell'ecosistema di tutti i servizi database driven. Sono varie tipologie e i NoSQL hanno una particolare area di applicazione, non sono one size fits all database, naturalmente, sebbene ci sono delle community o comunque dei gruppi o a volte anche dei miei clienti, vedo che provano a sostituire il loro database tradizionale con NoSQL, naturalmente sbagliando. Vi illustrerò alcune caratteristiche peculiari, ho fatto davvero un pick and choose stasera di alcune caratteristiche di Cosmos che a mio avviso sono utili, alcune novità, vedremo una demo, come diceva Luca, un po' end to end, come si integra Cosmos all'interno del mondo Azure, collegandola alle funzioni Azure Function e da un paio di servizi cognitivi e poi ci rimane un po' di tempo, vi illustro un po' la roadmap e poi apriamo un po' la sessione Q&A. Il mondo NoSQL, io quando devo spiegare da dove viene il mondo NoSQL, a parte il nome che è davvero un abbrobbio, però faccio fatica un po' come alla risposta Frank Stanley, da dove viene, un po' da tutte le parti. Infatti io sintetizzo l'origine del mondo NoSQL lungo 5 traiettorie, che sono importanti non solo dal punto di vista teorico, ma danno anche il senso poi della tipologia di soluzioni che sono sul mercato. Innanzitutto NoSQL nascono un po' di tempo fa, non è un concetto nuovo. Però all'inizio degli anni 2000, dopo la bolla dell'informatica che abbiamo avuto nel 2000-2001, le soluzioni che si sono iniziate a scrivere erano più orientate, erano molto più globali, quindi il concetto del scale up, cioè aggiungere capacity, aggiungere memoria su un solo server, veniva un po' meno perché ora avevamo un concetto di soluzioni distribuite. Infatti poi nacque questo teorema che non vi racconto, ma fondamentalmente è un trade-off, il cap theorem, per dire tra tre cose devi scegliere due, la consistenza, la disponibilità, l'availability o il partition. Il partition qui si parla del network failure, no? Quindi il setup distribuito è chiaro e quindi da questa è un'altra forza, un altro driver dei NoSQL, avere dei dati distribuiti, quindi fare cosiddetto sharding, avere dei dati, dei subset distribuiti globalmente sui cluster e sul territorio. È chiaro che il problema della consistenza del dato è sentito. Se io metto un prodotto in un carrello e sono in una location A, magari la location B che è diametralmente opposta alla location A, ma è chiaro c'è un problema di latenza del dato e quindi bisogna un po' decidere se cosa far prevalere la consistenza, quindi sincronizzare, rendere il dato disponibile, available quando tutti si è raggiunto un quorum o, e quindi porta al punto numero tre, concetto fondamentale l'eventual consistency, cioè significa fondamentalmente va bene che i dataset distribuiti sul territorio non sono sincronizzati, eventualmente alla fine lo saranno, ma non ci interessa il real time. E capite bene che c'è un ambito di applicazioni che cade sotto questo, in questa categoria. Se io scrivo un post su LinkedIn, non ho necessità che immediatamente sia disponibile globalmente a tutte le persone che mi stanno leggendo, ovviamente, quindi una latenza è molto più che accettata. Naturalmente l'open source ha avuto la sua parte nella creazione di database non relazionali e c'era anche il bisogno, poi, con la nascita di una nuova tipologia di applicazioni, applicazioni innanzitutto web distribuite, quella di non vincolarsi a una struttura rigida che è il mondo normalizzato, il mondo relazionale. Quindi viene meno quel vincolo, naturalmente se ne aggiungono altri, però è chiaro che qui viene un po' il compromesso. Non vi dico perché Amazon ha avuto un grosso impatto, un grosso push, però magari questo sicuramente ve lo lascio come esercizio per casa. I database. Come dicevo prima, vi sono fondamentalmente quattro categorie di database che si distinguono lungo due traiettorie. Una è riguardo allo schema, quindi schema bound, un modello relazionale, schema non relazionale. E l'altro riguarda la tipologia di accesso, quindi SIC centric significa praticamente dei database focalizzati, disegnati per fare delle look up, quindi delle ricerche del dato singolo particolare in maniera molto veloce e che sostengono poi una concorrenza molto alta, cioè quindi accessi concorrenti molto alti. Lato opposto invece abbiamo le cose dite scan centric, che è il mondo, se volete, il mondo dei data warehouse, in cui io non sono interessato a una high concurrency, quindi di avere dei accessi concorrenti, e non sono interessato al singolo dato transazionale, ma sono interessato al dataset, quindi avere uno scan, quindi avere dei report, avere uno dei risultati delle mie query che sono blocchi di dati, non è il dato puntuale. E questo è uno schema che io trovo molto utile. Velocemente vi dico, quindi chiaramente nel mondo scheme bound, SIC centric, troviamo i database tradizionali, open source, non open source, Oracle, SQL, eccetera, eccetera. Nel mondo scan centric, sempre legato a uno schema del database, troviamo il mondo dei data warehouse, e Microsoft ad esempio offre Azure Synapse Analytics, che è il vecchio data warehouse di Microsoft, ora ribattizzato Synapse. nel mondo invece schemaless, abbiamo qui due tipologie, abbiamo il mondo che conosciamo, il mondo batch, il mondo del processing del dato, ma anche qui in batches, quindi in blocchi di dati, non transazionale fondamentalmente, e poi abbiamo il mondo NoSQL, che è un po' il topic della serata. e come vedete, non per caso o per errore, ho messo Cosmos DB, l'icona di Cosmos DB, che è questa a destra, fuori un po' da questo schema. Questo è uno schema che viene fuori da Martin Fuller, credo che sia un autore che molti sviluppatori conoscono e apprezzano. Un po' di anni fa, in uno speech, anche lui un po' infastidito dalla nomenclatura, dalla confusione sul mondo NoSQL, un po' provò a categorizzare, dicendo esistono di database non relazionali, che sono graphic oriented, quindi ad esempio Neo4j, che sono documentali, come ad esempio MongoDB, sono ad esempio key value, come ad esempio Redis, e poi vi sono anche i database table oriented, quindi column orientate alle colonne, quindi con uno schema non a righe, ma a colonne, che hanno un loro significato. Mentre CosmosDB un po' incapsula un po' tutte queste tipologie di rappresentazione del dato, non si limita a quello documentale, infatti il vecchio nome di Cosmos era DocumentDB, molto orientato a immagazzinare, a gestire documenti. Ora invece con CosmosDB riusciamo a gestire anche database key value, per esempio, o anche quelli orientati al graf. Infatti CosmosDB, tra i pillar, tra le caratteristiche distintive del CosmosDB, abbiamo il multi API, cioè fondamentalmente oltre al core, che sono le API principali del mondo CosmosDB documentali, abbiamo anche le API MongoDB, quindi io fondamentalmente se ho un'applicazione che gira secondo un'interfaccia MongoDB e gira su MongoDB reale, se gli tolgo il motore MongoDB sotto e ci metto il motore MongoCosmosDB, con queste API io riesco a simulare il comportamento, con delle eccezioni, chiaramente vi sono una serie di distinguo da fare, però fondamentalmente l'idea è quella. Stessa cosa con Cassandra, che è un altro importante database, e anche Gremlin, che sono le API che ti gestiscono il dato secondo la struttura a grafo. CosmosDB è un pass puro, quindi non lo potete muovere dal cloud in un'altra parte, nasce in Azure, è pervasivo, nel senso che anche i servizi Azure, ad esempio il portale Azure o Teams che stiamo utilizzando stasera, utilizza CosmosDB, quindi nasce e vive dentro il data center di Microsoft fondamentalmente, quindi fully managed, distribuiti sul territorio, quindi vi farò vedere nella demo la semplicità con cui riesco ad attivare delle regioni in write, in read of write, in master slave o master master dei dati distribuiti sul territorio, quindi faccio un deployment in Italia e poi dico che sia il stesso dato, deve essere replicato in una modalità master master significa che due modalità di writing o must read, ad esempio all'altra parte del mondo in Asia. e poi naturalmente un'altra caratteristica di Cosmos è la velocità, la velocità di scrittura, siamo sotto i 10 millisecondi scrittura nella stessa region e questo è financially backed, significa che c'è un rimborso in caso in cui noi non riusciamo a garantire queste SLA, ok? Quindi nasce Cosmos davvero come un database distribuito multi-API pass con delle performance notevoli direi, notevoli. Per i sviluppatori quindi dal punto di vista dell'interfaccia dell'utilizzo di Cosmos DB oltre alle API che vi citavo lo provate le API e lo provate a incrociare un po' con ad oggi i linguaggi disponibili su MongoDB con cui è possibile esiste un SDK in cui è possibile interfacciarsi con Cosmos DB e quindi i linguaggi sono quelli come vedete il mapping non ve lo racconto riga per righe una caratteristica importante è il fatto che dentro Cosmos DB oltre a questo aspetto di programmazione in vari linguaggi e vari API posso anche definire delle storage procedure quindi server-side programming oppure delle user-defined functions quindi posso addirittura definire delle funzioni ad hoc che posso utilizzare come libreria all'interno del mi script SQL esatto il mi script SQL le SQL che si utilizza con Cosmos DB non è esattamente le SQL classico sintatticamente si somigliano molto ma la semantica è un po' diversa naturalmente perché ora abbiamo a che fare con documenti o con nodi di un grafo o con una table key value un hash table anziché righe e colonne allora per coloro che non hanno familiarità con mondo Cosmos DB provo a illustrarvi due concetti fondamentali che ci serviranno un po' anche come nella demo come vi dicevo è un passo quindi Azure gestisce fondamentalmente quel partizionamento dei dati che vi dicevo prima in gergo si chiama sharding quindi ciò che vedete qui sotto i dati vengono fondamentalmente replicati e mantenuti quindi quando uno shard che noi chiamiamo physical partition dei dati si sta per riempire in automatico Cosmos DB muove i dati ripartisce i dati ne crea un'altra istanza sotto il cofano dietro le quinte quindi è praticamente trasparente all'utente ogni shard quindi ogni physical partition può essere riempita fino a 50 gigabyte quindi quando siamo ai 75 80 per cento di quei 50 gigabyte Cosmos DB ne crea un'altra però come dicevo questo c'è un po' dietro le quinte noi c'è quasi trasparente questo meccanismo ciò che è sotto il nostro controllo quando utilizziamo Cosmos DB sia programmaticamente sia come amministratore lasciatemi dire è il concetto sono due concetti fondamentali il concetto del partizionamento logico dei dati secondo una chiave quindi se ad esempio sto immagazzinando degli utenti della mia applicazione posso strutturare tutti quei dati secondo ad esempio uno user ID quindi vado a creare dei contenitori che noi chiamiamo logical partition dei dati che potrebbero essere relazionati alle tabelle nel mondo relazionale non è così è una semplificazione anche molto molto rischiosa però le logical partition sono un modo per partizionare i tuoi dati logicamente secondo una semantica applicativa che vuoi appunto vedere in Cosmos DB esistono naturalmente diversi modi per creare una logical partition però bisogna stabilire ed è mandatorio una chiave quando si fa il setup del database quando si fa il setup del database oltre alla partition key bisogna anche dare un nome e creare un contenitore un database può contenere più containers un container fondamentalmente è quello che dice la parola un contenitore di dati all'interno di questo container i dati sono partizionati secondo una logica partition dietro le quinte vi ripeto poi tocca al servizio mappare questi dati su uno storage fisico all'interno di macchine virtuali però questo collegamento qui sotto questa linea rossa non lo gestiamo noi e poi c'è un altro concetto fondamentale quindi database container contenitori ogni contenitore è partizionato secondo una partition key e poi c'è un concetto che manda un po' in subbuglio molti dei miei clienti soprattutto all'inizio che iniziano a utilizzare il Cosmos DB è il concetto di RU request unit cioè fondamentalmente come si paga Cosmos qual è la currency di Cosmos e dal punto di vista del developer come faccio a monitorare le performance di Cosmos e se lo sto utilizzando per bene cioè quanto mi cubano una query quando mi cubano gli accessi in scrittura in lettura perché è un dato che è chiaro che questo voglio un parametro che voglio ottimizzare anche dal punto di vista della programmazione esiste questo unico parametro che si chiama RU che fondamentalmente incapsula il concetto del throughput che fondamentalmente corrisponde a quante richieste al secondo io posso dare e questo è un qualcosa che tu puoi gestire puoi assegnare ai vari contenitori o al database al database quindi ai container la quantità di RU che tu stai prevedendo per quel container non è una scienza esatta bisogna fare un po' di sperimentazioni esistono molte best practice per fare una serie e non è scritto nella pietra nel senso che si può cambiare in corso d'opera naturalmente però bisogna fare attenzione perché poi le RU a delle RU sono associati il costo del consumo del database va bene ma questo concetto di RU è fondamentale perché inizialmente era un po' una barriera un entry level barrier una barriera di ingresso che i sviluppatori fondamentalmente ci dicevano ma io non posso utilizzare il database costosdb perché solo per accenderlo devo pagare il minimo per mantenere la macchina accesa il minimo di RU che era 400 e su questo abbiamo lavorato moltissimi ora vi racconto un po' di novità prima di raccontarvi queste novità una feature fondamentale fondamentale di Cosmos DB è il cosiddetto change feed cioè fondamentalmente Cosmos DB mantiene in maniera quindi separata che non ha impatto sulle performance e che non consuma RU quindi è un meccanismo interno che noi esponiamo attraverso delle API creiamo un log in append di tutti i cambiamenti e le modifiche che avvengono in ogni container questo log per chi ha conoscenze di Kafka si può lo può immaginare come un mini Kafka all'interno di Cosmos DB vengono ogni qualvolta esiste c'è un cambio di dati all'interno del database questi vengono incanalati questi cambi all'interno di un log che viene esposto con delle API questo è diverso un po' dai trigger tradizionali al mondo relazionale perché il trigger è one off se succede qualcosa puoi mettere una notifica qui invece gli eventi è proprio uno streaming di eventi che si generano e che vengono manutenuti magazzinate e che vengono esposti attraverso le API il campo di applicazioni credetemi di questo change feed lo vedremo nella demo non mi voglio soffermare molto va dal come dire il perno principale per disegnare architetture event driven abbiamo fatto ad esempio applicazioni nel mondo retail o nel mondo IoT con il change feed davvero senza questa questa funzionalità sarebbe stato davvero faraginoso e complicato soprattutto è out of the box non si paga ti devi semplicemente attaccare al log e come consumer e fare quello che vuoi con i dati ad esempio collegare la live function come vedremo fra poco nella demo vado veloce su questo perché voglio arrivare al demo vorrei spendere un po' di più di tempo sulla demo però questo come vi dicevo è un elemento fondamentale sono il cosiddetto provisioning model cioè quando andiamo a creare e fare il setup del database dobbiamo creare queste benedette RU cioè la capacity throughput per ogni container come facciamo tradizionalmente come dire c'era un po' questa 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 parlato di cristallo dove bisognava in qualche modo indovinare il carico dei dati durante la giornata o durante il mese che è un qualcosa generalmente lo puoi fare se conosci la frequenza degli accessi ci sono molti use case in cui io so esattamente che ho bisogno di 5000 RU perfetto il sistema te le garantisce non puoi superare quelle 5000 RU se nei consumi di meno purtroppo paghi sempre 5000 e questo è lo svantaggio però se grosso modo hai il tuo carico è più o meno costante all'interno di un range e riesci a mantenere i 5000 RU ad esempio 10.000 quelle che sono funziona bene se superi 5000 c'è il cosiddetto throttling cioè il programma ti dà un 429 un codice il sistema fa dei ritrai che si possono configurare però fondamentalmente ti ti rimbalza la richiesta e questo era ciò che all'inizio ci contestavano un po' tutti come faccio in molti ambiti in cui io non conosco l'RU e infatti abbiamo introdotto da poco a marzo un preview e poi l'abbiamo fondamentalmente messo in general availability l'autoscale quindi la capacità non di avere un tetto massimo ma di avere un tetto massimo e un tetto minimo quindi quando il workload non è predecibile ma sappiamo che si muove all'interno di un range ha molto senso utilizzare e attivare questa feature e quindi se dico 5.000 tra i 5.500 se mi mantengo dietro dentro questo range vado a risparmare molti soldi abbiamo fatto dei calcoli fino a 60-65% dei soldi che si risparmiano se indoviniamo bene il tetto massimo entro cui non sforare anche questo però come dire soprattutto per i sviluppatori va un po' stretto perché se io ho un ambiente di test se è un ambiente di sviluppo non voglio fare nessun provisioning fondamentalmente oppure se ho una situazione in cui ho delle chiamate sporadiche al sistema non posso non ho un tetto massimo e minor è davvero non predecibile nel senso che ci sono delle richieste ad hoc e soprattutto ripeto nel mondo nel mondo testing e development e per questi casi questi scenari abbiamo introdotto il cosiddetto serverless che altro non è se non zero provisioning tu non fai nessun provisioning crei il container e lo utilizzi e paghi quello che utilizzi quando lo utilizzi molto semplice ci sono un po' di limitazioni al momento nella versione attuale nel senso che non puoi fare un provisioning di 10.000 100.000 RU credo che al momento siamo ci 5.000 6.000 abbondanti per molti due scases però questa è l'ultima frontiera in cui pay as you go quindi on demand e poi c'è il free tier che vi ricordo perché nel senso che i primi 400 RU che utilizzate nella vostra subscription sono zero quindi davvero la barriera di ingresso soprattutto poi per i sviluppatori si è battuta del tutto sia con il serverless che con il free tier quindi al momento direi che non ci sono scuse per non utilizzare iniziare a sperimentare con Cosmos DB qui a volo il mondo un'altra grandissima novità che in molti ambiti ha riscontrato davvero un molto successo è una feature attesa da un anno un anno e mezzo cioè fondamentalmente di avere in tempo reale i dati di Cosmos tradotti da Cosmos quindi senza costo aggiuntivo e fondamentalmente senza degradazione delle performance avere i dati in un formato a colonne ottimizzato per le query per le analytics sapete bene che all'interno ad esempio di un data warehouse e qui è più il mondo di data science data engineering può che fare con i developer però ve la do questa notizia perché in generale soprattutto nel mercato il mondo transazionale il mondo Cosmos DB e il mondo data warehousing quindi fare le analitiche sono due mondi separati che si parlano si riparlano però bisogna fare delle integrazioni con ITL eccetera eccetera con questo link nativo che abbiamo creato fondamentalmente scompare ogni ogni integrazione sviluppo o integrazione tra i due e contemporaneamente il dato sia transazionale e sia il dato in formato che Spark ad esempio se volete fare delle analitiche riesce a comprendere per fare appunto le analytics che vi ripeto sono delle analisi sui dati in batch molto più ampio rispetto a Cosmos DB che è ottimizzato per le look up un'altra novità importante a me piace moltissimo e con tutti i sviluppatori con cui ho a che fare l'ho abbracciata è la integrazione dentro Cosmos DB di Jupiter quindi del notebook potete scrivere è come se fosse un ambiente di sviluppo ad oggi quindi utilizzando il Cosmos .NET SDK un ambiente di sviluppo incorporato dentro Cosmos con cui collegarsi ai vari container fare come vedete in questa animazione il collegamento quindi using le SDK e creare la la connection oppure ad esempio definire una query e lanciarla vedere il risultato in maniera tabulare o in maniera grafica con tutti i vantaggi che chi conosce questo mondo dei notebook può apprezzare io lo utilizzo spessissimo questa feature perché l'interfaccia nativa di Cosmos DB potrebbe non piacere a tutti è un po' più orientata agli amministratori e quindi per fare una query per vedere dal portale i dati un po' chiaro che devi essere una persona a cui piacciono i database qui invece offriamo un'alternativa programmatica alla analisi dei dati sul database quindi in Python non in C Sharp per coloro che appunto conoscono Python e poi non poteva mancare l'integrazione di questi notebooks da dentro Cosmos DB direttamente in sync con GitHub anche questo è una feature che è stata richiesta da tutti e l'abbiamo introdotta perché era importante quindi sviluppare e contemporaneamente avere diciamo meno a speculare integrata il sync su GitHub questo è un po' la carrellata delle novità quindi come vi dicevo sono andato un po' veloce e non vi ho detto tutto però le cose fondamentali che bisogna tenere presente sono essenzialmente che Cosmos DB è essenzialmente un pass quindi Managed Services ha una struttura contenitori quindi i dati sono segregati in differenti container ogni container partiziona i dati secondo una chiave che voi offrite e ogni container ha un throughput che si chiama RU e che voi potete stabilire secondo quelle tre opzioni in cui vi ho detto prima e poi l'integrazione appunto con Jupyter e fondamentale l'integrazione il change feed cioè la possibilità di esporre lo storico degli stati del cambio di stato all'interno di Cosmos DB proviamo a mettere questi concetti insieme e allora per farlo ho messo in piedi una demo che vi racconto e poi vi illustro aggiungendo tre ulteriori aggiungendo a ciò che vi ho appena detto tre ulteriori ingredienti il primo è l'Azure Cognitive Search immagino che conoscete e conoscete è un servizio cognitivo all'interno del mondo AI di Azure che offre la possibilità di indicizzare documenti e velocizzare le ricerche secondo una serie di attributi di cui voi scegliete quindi con il facet con gli aggruppamenti e poi la cosa importante è possibile interrogare questo indice in maniera molto human-like come poi vi mostrerò l'altro servizio cognitivo che ho introdotto nella demo che ho integrato con Cosmos DB oltre quindi l'Azure Cognitive Search che ha un'integrazione nativa con Cosmos quindi riesco a creare un indice sopra i documenti di Cosmos anche il computer vision c'è la possibilità un altro servizio cognitivo di analizzare una picture e fornirne in formato JSON che quindi Cosmos comprende molto bene la descrizione di ciò che è il contenuto dell'immagine non che tipo di immagine il colore il formato anche quello ma a noi interessa analizzare il contenuto quindi dare nome alle cose che sono nella picture in formato JSON e spararli nel mondo nel database Cosmos DB e infine le funzioni come vi dicevo prima le Jule Functions per fare una vi mostro un po' di codice qui per come creare sviluppare una function in Cosmos DB che utilizzi il change feed di cui vi ho parlato prima quindi ogni qualvolta c'è un cambio a cui noi siamo interessati dentro Cosmos DB attiva una funzione questa funzione è una logica una business logic che fa delle cose e vedremo cosa la l'architettura davvero di altissimo livello dei componenti di questa demo è la seguente ho preso Twitter ma qui sostituire Twitter con qualsiasi sorgente dati a cui noi siamo che fornisce delle immagini può essere un parcheggio può essere una videosorveglianza può essere in store le videocamere che sono dentro ad esempio il mondo del retail in cui si analizza il comportamento dei customer quindi analizzo in real time le immagini io ho preso le immagini in media che pubblico su Twitter quindi ho preso il mio account ne ho creato uno nuovo pubblico delle picture gli do un hashtag e mi metto in ascolto quindi ogni volta io faccio il posting di un'immagine c'è questo componente logic app all'interno di Azure che ora vedremo come si configura che è un orchestratore che ascolta le immagini che provengono da Twitter secondo quell'hashtag a cui mi sono attaccato do in pasto questa immagine al computer vision ne estrago il JSON ne faccio un rimodeling del JSON non prendo tutto prendo un subset perché poi il computer vision spara davvero molte informazioni ne faccio una selezione che a me serve conveniente e la do numero 3 a Cosmos DB e da qui poi parte la parte e questo se volete è la parte producer dell'architettura e arriva su Cosmos i dati atterrano su Cosmos e da lì poi parte il consuming del dato una nota importante immaginate due caratteristiche di Cosmos uno il dato semistrutturato il JSON quindi nativo di Cosmos DB dove immaginatevi in questo caso un Twitter di una persona famosa immaginatevi centinaia e migliaia di dati che provengono in contemporanea e che vanno a scrivere su Cosmos DB quindi anche lì come vi dicevo prima le prestazioni di Cosmos DB l'altissimo tasso di scrittura con la bassissima latenza della scrittura di Cosmos DB lo rende il database molto fitting lasciatemi dire per questo genere di use cases quindi il dato arriva i dati arrivano su Cosmos DB da lì Cosmos DB all'interno ha vari container questi dati vengono segregati secondo delle configurazioni che poi si possono fare nella fase di design sicuramente e da lì ci sono tre consumer indipendenti ortogonali che utilizzano Cosmos DB come se fosse dedicato un servizio dedicato a loro il primo è quello tradizionale che vedete qui questo è un web service scusate non un web service è un'applicazione web browsing e nella modalità pool ho scritto una funzione ho sviluppato un'applicazione web molto semplice con javascript e html in cui mi collego al mio Cosmos DB e faccio un browsing vedo le fotografie che ho postato senza commenti e accanto a queste foto mi vedo la descrizione cosa molto semplice poi ho fatto altre due applicazioni una è il push cioè fondamentalmente ho creato un indexing con un servizio come dicevo un servizio cognitivo di indexing che prende i dati di Cosmos DB e l'indicizza ci sono due modalità per fare questa cosa qui quello che preferisco io che vi farò vedere il codice è il push cioè fondamentalmente l'indicizzazione avviene sui dati di Cosmos ed ogni qualvolta in maniera incrementale vi sono delle modifiche in Cosmos DB queste vengono riflesse nell'indice quindi in near real time l'indicizzazione riflette il dato in Cosmos DB l'alternativa è togliere questo push farlo diventare anche qui un pull e lo si può fare fondamentalmente è il servizio che si occupa ogni 10 minuti 5 minuti un minuto a fare un polling sul database soluzione poco scalabile per dire il minimo e poi questo non lo faccio vedere perché non l'ho ancora realizzato ma è in fase di costruzione e poi metterò tutto su GitHub questo modulo è un notification hub che è un altro servizio di Cosmos DB fondamentalmente riceve notifiche quindi c'è una logica qua dentro che ho detto ogni qualvolta le foto che stai pubblicando contengono questo attore o questo oggetto o una descrizione in particolare dammene una notifica e scriverò una piccolissima applicazione mobile in cui non c'è un browsing passivo ma vengo notificato ogni qualvolta ci sono delle foto importanti quindi sostituite le immagini banali di Twitter con un'applicazione reale capite bene che questi alert possono essere molto importanti se ci sono delle immagini all'interno di un impianto in cui contengono delle fiamme o degli oggetti in un posto sbagliato che quindi possono essere per esempio un possibile situazione pericolosa fondamentalmente dammi una notifica quindi in anticipo riesco anche a capire se un particolare setup un particolare ambiente è prono a rischi immaginate oppure immagini che arrivano dai droni eccetera ora non vi tedio con le possibili applicazioni di questa semplicissima architettura ho utilizzato Twitter davvero per semplicità andiamo a vedere un po' di cose allora innanzitutto partiamo da partiamo da da questo mondo qui il mondo della produzione del dato allora mi auguro che tutti riconoscono il portale di Azure scherzo naturalmente qui ho credo una dashboard proprio per il nostro meetup in cui ci sono le varie risorse con cui con cui vedremo questa sera innanzitutto andiamo a vedere il servizio Cognitive Services c'è poca roba da vedere qui in realtà è sul sul portale perché ho fatto la configurazione ho dato un po' di parametri ve lo faccio vedere dal sito se andate sul sito di Microsoft i servizi cognitivi fondamentalmente c'è anche un modo per vedere ad esempio se selezioni questa foto in tempo reale la foto viene analizzata e viene generato questo complicato complicatissimo JSON ok quindi vi da un po' tutti i tag vi dice anche l'azione questa persona sta facendo skating con un livello di confidenza quindi per ogni tag che genera un tag è la descrizione di un particolare della foto e poi dà anche una descrizione della foto oltre ai tag dice è young man riding skateboard quindi fondamentalmente descrive con una buona accuratezza 81% di confidence 081 il contenuto dell'immagine è esattamente questo servizio cognitivo che andiamo a utilizzare come vi dicevo prima però non siamo interessati a tutti questi parametri poi tra l'altro questo è un JSON con molti innesti con dei sottodocumenti con dei array eccetera eccetera e generalmente io quando lavoro in Cosmos DB tendo a ad appiattire quanto più possibile i JSON per questione di performance però non è un vincolo tecnico semplicemente un'ottimizzazione quindi utilizziamo questo 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 servizio l'altro servizio che a volo vi faccio vedere è il vision l'ho chiamato vision app che è l'orchestratore ricordate no è l'oggetto che prende i dati da Twitter prende i dati dal servizio cognitivo che analizza le immagini e li spara su Cosmos DB infatti se all'interno di questa configurazione vedete API Connections ci sono i tre servizi in cui ho attaccato il servizio i due input e un output fondamentalmente con un po' di configurazione che si va anche dal portale e si attaccano questi tre servizi e poi c'è la logica che qui ve la faccio vedere in maniera grafica cioè fondamentalmente l'orchestrazione il flusso il workflow quindi questo servizio Logic App ha una miriade di connettori quindi si attacca a Twitter LinkedIn davvero ce ne sono poi c'è sul sito tutti i connettori da qui potete andare sul sito e vedere tutti i connettori possibili nativi quindi io ne ho credo uno ogni volta un tweet viene postato viene e arriva la notifica vado veloce su questo quello che vi voglio far vedere che quando mi arriva tutto quel JSON che vi ho mostrato al servizio cognitivo io ne voglio fare una proiezione cioè vado a selezionare un subset di quei dati ed è qui questo è un momento cruciale dello sviluppo dove dico questo è il JSON che deve andare su Cosmos DB questo qui quindi questi sono i nomi dei campi la sorgente di questi campi o è dal servizio cognitivo o è una funzione che è genero nativa dentro il sistema di logic app di questo servizio oppure viene da Twitter ok quindi io in Cosmos permettimi di aggiungere che il prossimo 6 novembre faremo un evento su Office 365 le Power Apps e quindi questi argomenti verranno approfonditi durante questo evento ci sono diverse sessioni dove ti spiegano anche come fare dei custom dei dei connettori custom quindi ancora più avanzato per customizzare ancora di più le Power Apps ottimo ottimo proverò a partecipare quindi e questo diciamo grazie Luca intanto quindi questo diciamo è la proiezione che faremo su Cosmos DB andiamo su Cosmos DB finalmente vediamo un po' che dati ci sono secondo questo formato e vi farò vedere un po' alcune cose sul mondo su Cosmos DB Cosmos DB è qui Cosmos DB si presenta diciamo secondo la struttura classica di Azure con tutti i blades che vedete a sinistra e c'è un data explorer qui c'è il monitoring dei dati quanto consumo quanto pago ci sono c'è davvero avremo bisogno di giornate intere vi farei qui quindi infatti impiego giornate per fare i workshop ai clienti per poi fare diciamo un corso un pochino più approfondito questo diciamo è il data explorer quindi un'interfaccia semplice per navigare i dati su Cosmos DB ho due quindi secondo le API SQL che ho utilizzato quindi non Mongo non Cassandra o il graph ma utilizzo le core ho due database Twitter Lab e il mio database all'interno di questo database vi sono due collection o container ricordate all'interno del contenitore Twitter ci sono gli items quindi i dati e poi ci sono un po' di settings che vi dicono come questi dati sono strutturati ad esempio dico il throughput l'ho fatto autoscale non l'ho fatto manuale perché sapevo per questa demo che bastano molto meno di 400 riu quindi pace così ci sono alcuni parametri il time to leave cioè praticamente i dati possono avere una data di scadenza possono avere una scadenza quindi potete tirarli fuori da Cosmos e passarli su un altro database qualora i dati appunto non sono più hot come si dice in molti casi questo è vero e poi c'è l'indexing eccetera eccetera ora quello che vi voglio far vedere è che dentro dentro il container ci sono dei items i items sono raggruppati secondo questo parametro id che lo genera il sistema e questa è la mia partition key photo id questo è il criterio per raggruppare all'interno del mio container che si chiama twitter photos le mie foto e qui ne ho già alcune precaricate ora però ne carichiamo un altro volo e vi farò vedere come poi atterra in Cosmos DB e vedete che qui è quel json che vi ho fatto vedere prima nella logic app fondamentalmente viene esploso e viene portato in Cosmos DB quindi esiste una caption esiste quindi una foto la descrizione con i tag di nuovo la caption con anche con il livello di confidenza l'id eccetera il time quando è stata generata la foto e poi vi sono dei attributi che iniziano con l'underscore che sono generati dal sistema come il timestamp eccetera eccetera argomento un po' avanzato però quelli non vengono generati dall'utente questi dati possono essere ad esempio filtrati e come dicevo prima io riesco ad esempio a fare ad esempio una query che somiglia molto ad esempio faccio un copio e un collo da qui alle query classiche quindi sintatticamente ad esempio dico dammi tutti i documenti dove il parametro caption continua la parola n e quindi uno solo un headway e via discorrendo qui è chiaro che posso addirittura da qui scrivere ad esempio una query quella più classica quella che conosco ad esempio count uno e mi dice quanti documenti sono presenti nel sistema vedete che il risultato della query è sempre un JSON un array di JSON in questo caso 12 documenti e quindi tutto ciò che noi conosciamo sul mondo SQL può essere in qualche modo riutilizzato però anziché interrogare tabelle si interrogano documenti con delle particolarità è chiaro che me l'hanno già detto in mondo NoSQL non esistono le join per tutta una serie di regioni che davvero richiederebbero un'altra sessione per fare per come si disegnano i dati sul mondo NoSQL quindi è un capitolo a parte detto ciò quello che voglio far vedere adesso andiamo su facciamo una prova a volo carico una foto su Twitter e incrociando le dite proviamo a vedere se arriva a terra su Cosmo TV e poi la vediamo anche nell'applicazione web che ho scritto come andiamo col tempo Luca? mancano dieci minuti ok perfetto siamo ancora in un tempo per far vedere anche le funzioni questo è il mio il mio Twitter provo a caricare una foto che non è nel sistema ad esempio questa qui la pubblico sul mio Twitter sapendo che sarà ascoltata sarà recepita perché è taggata .NET code che è l'hashtag che stiamo seguendo viene pubblicata ora se ricordate se torno di nuovo al al mio dashboard questa foto ora in qualche modo deve essere notificata al al sistema il sistema fa una notifica quindi va a verificare se ci sono delle nuove foto ogni credo ogni minuto noi acceleriamo un po' i tempi non abbiamo questo tempo quindi faccio il run del trigger e proviamo ecco vedete 7.52 è andata con successo quindi abbiamo un applicato abbiamo praticamente incorporato quel documento all'interno di CosmosDB ora possiamo andarlo a vedere all'interno di CosmosDB vado sul mio database che si chiama Mark Playground di nuovo su Data Explorer e se tutto è andato bene dovrei è chiaro che ora lo devo ricercare il motivo per cui esiste l'applicazione web però più o meno credo che sia questa andiamo ad aprire l'applicazione web e vediamo se effettivamente il sistema l'ha percepito per fare questo come vi dicevo ho scritto un'applicazione molto semplice se torno nella mia dashboard questo è il mio servizio di applicazione web che si chiama App Service come vedete all'interno di questo App Service che è una sorta di contenitore dove dico va bene dove è la business logic di questa applicazione web è su GitHub quindi se clicchiamo qui vado all'interno della mia web app e da qui poi vi lascio il sito potete andare a vedere il JS la parte HTML eccetera eccetera quindi l'ho sviluppata l'ho pubblicata su GitHub e l'ho referenziata all'interno di questo ciò che noi chiamiamo App Service che altro non è un servizio che ti aiuta a sviluppare a deployare perdonatemi le applicazioni web e da qui posso andare direttamente sul sito che ho sviluppato che si chiama Twitter Lab Azure Website e vediamo se la foto di quei due giovanicelli eccola è stata caricata quindi con la descrizione e group of people posing for the camera naturalmente quindi 90% con una serie di tag della foto così come abbiamo visto quindi questo in qualche modo è la prima parte della demo che ho fatto vedere in architettura in tempo reale carico foto le trasformo in JSON e sono immediatamente disponibili la seconda parte della demo è la ricerca quindi non voglio fare un browsing banale così per capire dove sono le foto ma voglio iniziare anche a fare delle ricerche perché il punto di avere delle foto descrittive è di dire voglio cercare tutte le foto che hanno questo particolare parametro questo particolare contenuto e quindi come se fossero testuali quindi per fare questo abbiamo introdotto i servizi cognitivi il primo servizio cognitivo se vado adesso dentro Cosmos DB quindi dall'interno di Cosmos DB posso attivare posso collegare il mio Cosmos DB al servizio cognitivo Azure Cognitive Search cioè sto dicendo caro Cosmos i tuoi dati saranno indicizzati secondo un servizio di Cognitive esterno a cui tu devi fornire i dati secondo quelle due modalità che vi dicevo prima pull o push questo già l'ho configurato quindi non ve lo faccio vedere però vado quello che voglio vedere vado nel servizio di search che dashboard qui il servizio di DB Search che offre un SDK che ho incorporato all'interno della funzione che ho scritto ti consente di fare un paio di cose innanzitutto l'indicizzazione quindi devi creare un indice che significa creare un indice devi dire banalmente da quei campi JSON quali campi tutto il JSON che abbiamo descritto quali campi vuoi indicizzare e secondo quale criterio questi campi devono essere retrievable filterable sortable faceable che sono tutte le caratteristiche in cui si possono sono prospettive sui dati fondamentalmente in cui posso andare a vedere i dati e questo è il primo punto da fare il secondo punto da fare il punto da sviluppare è lo schedulatore l'indexer questo può essere manuale come è descritto qui fondamentalmente qui sto dicendo che ogni 5 minuti fare il polling vai su Cosmos DB e vai a fare il polling prendi i dati e aggiorna l'indice però come vi dicevo prima e ora lo vediamo subito è molto più scalabile la soluzione opposta cioè fare un push dentro l'indexing da Cosmos ciò che è interessante e simpatico all'interno di questo indice che una volta che l'ho creato riesco a creare una demo a volo vediamo se funziona in cui dico voglio creare una pagina web dove a sinistra ci metto l'url a destra ci metto il caption e poi ci metto la descrizione dei tag mi genera una pagina web HTML in cui io aprendola mi offre una vista diversa da quella che ho visto prima nella web app dove ad esempio riesco a fare vedete questi sono i campi che io ho taggato dentro il mapping e quindi posso dire cerca ad esempio tutte le donne e quindi mi da sbagliando in questo caso mi da anche degli uomini il servizio non è al 100% accurato mi da fotografie dove ci sono uomini oppure case ad esempio e qui posso ultimamente fare il filtro eccetera quindi questa è una vista un pochino più intelligente perché ora i dati sono indicizzati in maniera molto più strutturata rispetto a un browsing passivo l'ultimo pezzo che non voglio mancare di farvi vedere invece come alimentare l'indice attraverso una funzione ho scritto una funzione in C Sharp anche qui le funzioni vengono definite all'interno del portale si possono anche scrivere naturalmente in Visual Studio c'è un package le funzioni poi vengono pubblicate direttamente sul portale qui mi interessa farvi vedere un po' di cose l'ho fatta sopportare perché è molto semplice la prima è l'integrazione cioè io visualmente dico scrivo una funzione risparmiamo tutto il codice per collegare questa funzione al change feed di Cosmos perché dato che questi servizi sono nativi di Azure sono integrati tira una linea da Cosmos DB alla funzione molto banalmente e quindi il testo il testo il programma si riduce generalmente si prosciuga di molto si riduce all'osso infatti qui riconoscete la definizione di alcune ad esempio parametri che vado a prendere a servizio dell'indexing perché ricordate quello che sto facendo qui con questa funzione questa funzione viene invocata ogni qualvolta un Cosmos DB cambia c'è una modifica all'interno di Cosmos DB e quindi la devo andare a scrivere nell'indice quindi ho bisogno di capire dove si trova l'indice ok quindi all'interno dell'indice o del servizio dell'indicizzazione ho creato un po' di chiave valore dei parametri scrivo una classe molto semplice get set che riflette il dato che deve essere scritto sul Cosmos scusate su indexing e la funzione asincrona per definizione serverless viene eseguita e a qui Cosmos passa i documenti l'array di documenti la lista di documenti che hanno subito un cambio che sono stati modificati e all'interno di questa funzione utilizzo l'Sdk dell'Azure Search per fare un merge o un upload quindi se esiste se non esiste faccio un upload se già esiste ne faccio un merge di tutti i documenti aggiornati con quelli vecchi nel database creando popolando questa classe e inviandola all'indecitazione vedete questa funzione è stata scritta direttamente all'interno di ambienti di sviluppo dal portale un ambiente un po' diverso da questo molto più semplificato rispetto a Visual Studio 2019 però che consente di fare delle cose più o meno semplici chiaro laddove invece la logica è molto più complicata c'è più integrazione è chiaro che conviene mettersi a tavolina e farla con tutti i crismi però laddove ci sono delle funzioni atomiche come queste è chiaro scriverle direttamente all'interno del portale dell'ambiente che offre il portale è molto molto più interessante quindi per chiudere abbiamo sforato l'oretta siamo in orario tranquillo siamo in orario perfetto quindi siamo 5 minuti in più non è che quindi ricapitolando ricapitolando vi dico quindi questa semplice architettura sarebbe stata possibile senza Cosmos sì certo è chiaro però avere un sistema scalabile performante schemaless con il change feed incorporato capite bene che è stato un fitting naturale in realtà questo come dicevo prima questa architettura è la semplificazione di molte reference architecture che noi abbiamo fatto scritto e in produzione con moltissimi clienti direi anche molto grossi che hanno delle subscription Cosmos molto 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 importanti in vari ambiti quindi retail IOT telemetria manufacturing gaming abbiamo dei clienti del mondo gaming immaginate lo scoring ranking dei vari players degli aggiornamenti global quindi una distribuzione sul territorio quindi Cosmos davvero lì è stata la mano dal cielo e poi l'integrazione ripeto con tutti i servizi che ne fa davvero a mio avviso un come si dice una caratteristica distintiva di Cosmos DB che non è un prodotto isolato incanto agli altri ma vive all'interno di un ecosistema in cui si integra piuttosto facilmente per finire alcuni aggiornamenti vi ho già detto c'è il free tier abbiamo adesso il point in time restore cioè in ogni momento puoi andare indietro nel tempo e fare un restore dei dati in case default eccetera eccetera abbiamo aggiornato la SDK per Java Spring che trovate poi sul sito poi magari vi lascio anche il sito di Cosmos abbiamo un sito dedicato a Cosmos per gli sviluppatori in cui tutte le novità su Java sui vari le varie API eccetera eccetera vengono aggiornate continuamente è possibile fare l'encryption dei dati in maniera automatica in Cosmos DB anche portando le vostre chiavi il private link fondamentalmente la passione di metterlo all'interno di una vnet per chi non è a conoscenza un po' del networking possiamo anche sorvolare però questa è una característica dove soprattutto gli uomini di infrastruttura non gradiscono molto perché riesce a coprire a schermare Cosmos in maniera Enterprise le API di MongoDB sono al 3.6 Mongo credo che oggi sia al 4.2 ora non ricordo bene noi siamo sempre saremo sempre come versioning indietro rispetto alla versione utile di Mongo però la buona notizia è che tutte le migrazioni che abbiamo fatto da MongoDB a Cosmos DB utilizzando le API erano al 3.2 o 3.6 3.6 scusate e questo è un lavoro che facciamo in continuazione però è chiaro che non possiamo mai avere la perfetta sincronia poi vi sono anche altre qui ve l'ho nascosta perché diciamo davvero molto confidential da qui ai prossimi sei mesi moltissime moltissime caratteristiche features che saranno introdotte il caching interno che va a battere ulteriormente ad esempio i costi un advisor ricordate prima vi ho in qualche modo menzionato che scegliere una partition key o scegliere l'RU è un'arte un po' diciamo che qui uno non vorrebbe perdere molto tempo infatti stiamo introducendo un algoritmo di machine learning che in base all'utilizzo del Cosmos DB ti suggerisce il partizionamento migliore dei dati e quale chiave potresti utilizzare e con quale RU quale throughput dovresti utilizzare quindi più utilizzi Cosmos più c'è il feeding l'addestramento di questo machine learning e quindi esiste un advisor out of the box che ti dà un po' dei suggerimenti volte lo so sembra contraddittorio a risparmiare perché fondamentalmente per noi Cosmos DB è una piattaforma fondante in cui vogliamo che i nostri clienti lo utilizzino in maniera appropriata molti di interventi all'interno del mio lavoro credo 40-50% del mio tempo io lo spendo come un dottore che va dal paziente e andiamo a mettere a posto un po' di cose perché è stata fatta l'applicazione i sviluppatori gli amministratori dicono noi performanti stiamo spendendo troppo eccetera poi facciamo delle ottimizzazioni ad hoc e tutto torna tutti felici e contenti vi lascio un po' di link scusate un po' il momento di pubblicità io scrivo molto su LinkedIn ho un canale da poco su YouTube questi questi ultimi articoli sia su Cosmos ma anche un po' più in generale sul mondo dati AI sono linkabili credo che questa presentazione sarà comunque condivisa e poi un invito se volete per chi di voi è interessato quell'applicativo che vi ho fatto vedere è su GitHub la sto finalizzando sto scrivendo con Android Studio una piccola mobile app che riceve delle notifiche e quindi vorrei la devo la voglio completare perché poi diventi un template per applicazioni più serie però almeno ci sono tutti gli ingredienti per fare non una demo bella ma anche poi trasformarla in qualcosa di più realistico grazie 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 ancora grazie per il tempo siamo grazie grazie a te Michele no no siamo in orario tranquillo io non vedo l'ora che posti la il repository su GitHub spero che ci siano anche le istruzioni di tutti i vari componenti come crearli su Azure così insomma in modo tale da facilitare un po' tutti poi essendo su GitHub potete fare fork potete fare contribuire direttamente al repository e anche questo è bello insomma il fatto di condividere insieme un progetto e che ognuno possa partecipare anche anche lì sì sarebbe molto bello sì anche molto utile così ti vuoi dedicare al caldo no 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 nel senso che ti ripeto quella è una derivata di molte 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 referenze architecchiali che abbiamo fatto però metterla lì in maniera semplificata e modulabile e declinabile sostituendo Twitter con un altro servizio IoT o quello che vuoi è chiaro la rende anche molto utile come asset questo è un po' l'intento che mi sono dato lo scopo è chiaro che chiunque voglia partecipare è ben accetto è utile ma è anche uno use case che se uno vuole vedere come funziona e poter riprovarlo e giocarci ci può giocare giocare benissimo io sono un giocherellone diciamo a me piace smanettare e vedere quindi se c'è qualcosa da imparare magari anche guardando il codice e vedendo come uno l'ha configurato poi è anche questo insomma anche vedere come sono state affrontate determinate problematiche è sempre utile per imparare cose nuove allora c'è una domanda te la leggo subito te la leggo subito Giorgio che scrive innanzitutto complimenti per la sessione ho perso qualche dettaglio nella parte iniziale ma recupero nelle registrazioni il tool tool per l'interrogazione cioè vuoi sapere cosa che cosa hai utilizzato per interrogare Cosmos penso che sia questa la domanda rubo le parole di Luca aspettiamo i repository penso che la curiosità aspetta forse sta scrivendo la curiosità sono spiegato di corsa si dice come posso accedere analogamente a SQL Management Studio che uso su SQL Server io voglio interrogare i dati come posso farlo su SQL Server utilizzo SQL Management Studio invece per Cosmos cosa posso utilizzare si ottima domanda allora esistono esiste innanzitutto una l'equivalente di Management Studio esiste incorporato all'interno del portale quindi quando andiamo sul portale e configuriamo il Cosmos e da lì io vedo io vedo i dati e navigo sui dati e si chiama Data Explorer quindi fondamentalmente si fa questo è un'applicazione web che non si scarica dal portale dove inizio a navigare sui dati io non sono un fan molto franca io utilizzo i notebook cioè utilizzo ciò che ho fatto vedere un po' anche nell'animazione dato che ora non lo posso far vedere qui perché in questa subscription non ci ho attivati i notebooks che sono in preview solo in alcuni region però tra due mesi saranno general available cioè utilizzo un notebook per navigare i dati in maniera programmatica e anche molto con dei built-in per chi conosce notebook da parte grafica quindi visualizzare i dati fare un po' di exploration dei dati ma è molto più intelligente non esistono dei tool stand alone se questa è la domanda dove si installano e tu ti colleghi a Cosmos DB Cosmos DB nativamente come pass è dal portale che ha questo accesso nativo come dicevo esistono i notebooks oppure esiste un questo non lo ve l'ho menzionato esiste un Cosmos emulator che è uno stand alone soprattutto questo per i sviluppatori è utile quando si fanno degli sviluppi in locale in cui magari non vuoi neanche testare networking eccetera vuoi avere il motore di Cosmos in locale e quindi il tuo codice rimarrà uguale quando poi prendi dati e li porti sul cloud identico non cambia nulla esiste anche un tool un click dove poi prendi dati container e ti riporta te li copia nell'equivalente Cosmos su cloud e questo è come dire incapsula sia la navigazione dei dati incapsula come un po' lo spirito Visual Studio del tool che ha menzionato come si chiama SQL Studio SQL Management Studio in locale però ti ripeto è disconnesso dall'istanza cloud serve solo per fare un testing unit testing in locale quindi ripeto quello detto all'inizio la cosa più semplice è quando si fa la configurazione di Cosmos e iniziare di navigare i dati dall'interno di Cosmos DB cioè all'interno del portale esiste poi dall'interno del portale questo link a questa applicazione web Cosmos Azure.com che ti consente di navigare di fare delle query come vedi qua di creare dei nuovi query di navigare i dati fondamentalmente puoi anche manualmente creare dei nuovi item manualmente o caricare dei dati da un json se hai dei json in locale e li puoi caricare direttamente dentro Cosmos DB questo un po' il una domanda e chiede se storage explorer verrà deprecato non lo so non lo so non saprei dirte su questo invece da Azure dalla studio o no non ci posso accedere no ok no no Cosmos DB difatti è come dire è una bestia un po' diversa rispetto a ciò che abbiamo realizzato nel mondo relazionale quindi al grado del mindset si disegna in modo diverso si accede in modo diverso è proprio una strumentazione un po' diversa e fondamentalmente non è orientato agli amministratori cioè Cosmos DB tutta la parte amministrativa è incorporata perché è un pass cioè ci focalizziamo sulla parte applicativa cioè scrive applicazioni cioè non è uno strumento in cui ci sono anche quegli strumenti per vedere il monitoring lo devi fare però la persona principale che utilizza Cosmos DB non è l'amministratore tutti noi il 90% delle applicazioni che abbiamo di Cosmos DB nel mondo sono Cosmos DB all'interno di applicazioni applicazioni web real time eccetera eccetera molto orientato allo sviluppatore e lo sviluppatore come analizza i dati ancora ripeto esistono i notebook nativi conosci C Sharp conosci Python conosci Java esistono dei snippet di codice in cui riesci a navigare i dati ma è molto sempre fare delle manipolazioni anche del dato se utilizzi le abiti di MongoDB puoi cedere con un client di Mongo sì giusto 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 giustissimo io ho altre altre domande qua no allora una domanda semplice una cattivella una è che cosa posso fare con il free tire cioè posso giocarci posso questa era la domanda cattiva o la domanda buona questa è la domanda buona ok allora il free tire fondamentalmente con 400 ru puoi farci molto moltissimo 400 ru riesci a avere anche un paio di giga di dati e sono molti se vedi che ho un json generalmente sono 1-2k kilobyte il limite in cosa sono 2 megabyte per documento ma avere un documento di 2 megabyte lasciami dire mi porrei una domanda diversa perché è così grande con il free tire quindi riesci a giocare io lo prendendo lo utilizzo a manella e sempre con tutte le mie sperimentazioni serve appunto per sperimentare e comunque poi anche dal punto di vista dei costi se tu sfori 400 ne fai un provisioning di 1000 e hai il free tire attivato tu non paghi 1000 paghi 600 naturalmente è scontato però è bello dirlo perché ti viene sempre decortato dal billing dei 400 e i primi 400 sono compresi e poi compresi sempre anche se ne utilizzi più fai un provisioning maggiore di RU sono sempre decortati e ti ripeto puoi farci molte cose come puoi scruggere funzioni puoi intervare i dati poi il sistema poi ti dà il 429 questo famosissimo codice di errore di throttling che dopo 9 retrai 9 retrai il sistema dice guarda non hai abbastanza RU per fare questa roba qui però è difficile eccedere perché perché a meno che non hai un ambiente dove ci sono accessi paralleli non lo supererai mai 400 tranquillo c'è molto spazio per giocare gratis e poi c'è il serverless non ti scordare è chiaro anche quella 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 modalità quella è ancora più che combinato con il free tier ti dà il massimo del playground fondamentalmente lo proveremo Dario chiede anche Cosmos come tutti i NoSQL è meno tra virgolette sicuro dei classici di B relazionali tocca vedere cosa intendi per meno sicuro non ci sono le transazioni beh la sicurezza di bene esatto non ci sono le transazioni non è transazionale non ci sono le cosiddette acid transaction sì questo noi garantiamo così come la stragrande avanzazione dei database NonSQL garantiamo l'acid solo quando aggiorni un documento sì per questa è una cosa che mi viene in mente quindi sicurezza cosa intendiamo i dati sono sicuri sono protetti sono criptati magari se qualifichi un po' di più forse riesco a aiutarti meglio volevi però comunque non ci non mi risultano problemi di sicurezza ma ci mancherebbe nel senso che l'avremmo saputo anche vi faccio un esempio senza fare nome e cognome comunque ci sono aziende grossissime tipo Coca Cola Walmart c'è gente che spende un po' di soldini su Cosmos Adobe ad esempio grossissimi clienti dove il mondo manufacturing non vi dico quanto però i workload sono enormi c'è un ritorno di valore dell'utilizzo enorme problemi di sicurezza quelle che abbiamo generalmente vi ripeto sono problemi a volte di performance ma che risalgono non alla macchina sono attribuibili non a Cosmos di per sé ma al modo in cui si disegnano i container al modo in cui si partizionano i dati quindi generalmente facciamo un refactoring perché nella fase design non c'è stato messo troppo non c'è non si è speso tempo a pensare come partizionare i dati o comunque i requisiti sono cambiati quindi questi sono generalmente ti faccio la domanda cattiva e poi andiamo a fare la la selfie rot ti faccio la domanda che sicuramente ti hanno fatto tutti ma proprio tutti qui non ho mai risposto quindi stasera mi ripeto e la domanda è questa perché utilizzare Cosmos DB e non MongoDB guarda tu puoi utilizzare MongoDB a O a Iosa cioè stiamo parlando di casi anche in Italia se ci limitiamo solo al caso italiano c'è una lista guarda cioè che cosa mi dà di più Cosmos diciamo cosa offre di più rispetto a un classico MongoDB secondo me questa è l'integrazione sicuramente con tutti i servizi di Azure guarda sì io conosco MongoDB vedendolo utilizzare dai miei clienti e capendo perché i miei clienti a volte l'hanno l'hanno praticamente smantellato ora a me non piace parlare male anzi al contrario però mi sono mi sono una differenza cosa ha di più CosmosDB che quindi mi dà forza per andare da un cliente e dici no guarda che CosmosDB è meglio per questo questo motivo guarda un cliente ti dico questo episodio e poi ti do anche la mia risposta un pochino più estesa velocemente un cliente proprio la settimana scorsa con cui sto lavorando in Italia Nord Italia fanno delle cose spettacolari queste gente qui ha utilizzato CosmosDB per un anno anche la versione Atlas quindi la versione web non web scusatemi la versione cloud l'hanno reputato un servizio non enterprise grade quindi bello per giocarci ma quando abbiamo dei carichi come ce l'hanno loro di telemetria di milioni e milioni di documenti a secondo di scrittura e con dei pattern di accesso al dato in lettura diverse delle scritture si sono un po' lamentati ora non so se questo è una lamentela che si può estendere in tutta onestà può essere solo limitata a questo specifico use case del mio cliente e sono passati poi non a Mongo API ma sono passati direttamente a Cosmos DB facendo un re-engineering delle loro applicazioni per collegarla a Cosmos DB quindi sono andato incontro anche a questo mese e mezzo di re-engineerizzazione dell'applicazione per utilizzare Cosmos DB e sono contenti Cosmos DB ti dà questa flessibilità dell'auto sharding che è fondamentale io prima l'ho però detta in maniera forse anche non molto chiara velocemente volevo arrivare direttamente alla demo cioè la possibilità di avere lo sharding dei dati quindi la la suddivisione dei dati partizionati su vari nodi gestiti in maniera automatica io non devo fare quando durante le setup del database di Cosmos non mi devo preoccupare per questo dicevo non è per gli amministratori deve fare il sizing del cluster scegliere quanti cluster eccetera eccetera questo sicuramente è un aspetto importante perché è un livello di astrazione maggiore lasciatemi dire anche di sicurezza pure del dato in gestione del dato sei su Azure e quindi ineriti tutta la governance e la sicurezza di Azure questo è la differenza tra un mondo tra un servizio nativo pass e il resto del mondo e il secondo le performance guarda qui ho delle voci contrastanti nel senso che mi dice testa a testa che mi dice Cosmos DB queste affermazioni vanno contestualizzate queste affermazioni quindi io le performance di Cosmos le conosco bene e sono veritiere e ti posso dire che sotto i 10 millisecondi sempre indipendentemente al carico noi te le garantiamo in scrittura quindi diciamo e ti rimborsiamo se non riusciamo quindi questo è sicuramente un aspetto importante e poi il multi API cioè noi andiamo incontro cioè Cosmos DB va incontro non ti forza a utilizzare solo il document DB cioè i documenti JSON tu puoi in base ai tuoi applicativi tu puoi utilizzare nello stesso contesto applicativo dei dati strutturati in maniera grafica e dei dati strutturati in maniera tabulare e dei dati strutturati in maniera in maniera documentale e dato che un'azienda enterprise generalmente i dati sono rappresentati in maniera e tu vuoi rappresentarli vuoi modellare in maniera diversa Cosmos DB ti dà questa opportunità di avere un solo database un solo motore ma avere molte interfacce molti API questo sicuramente non è male non è male e poi il dato la distribuzione dei dati sul territorio in 59 region nel mondo e ve lo faccio vedere a volo perché questo è a mio avviso anche un altro vantaggio io posso replicare i dati vedete c'è la mappa del mondo dove Cosmos a momento è possibile replicarlo io ce l'ho in Western Europe in right region posso dire lo voglio qui e lo voglio qui in lettura o in scrittura in quale availability zone faccio un save dopo 4-5 minuti ho una replica del dato in queste region in questo caso in lettura con un livello di consistenza dei dati che io posso stabilire infatti ricordate il CAP Theorem io ho diversi modalità di sincronizzare i dati ci sono degli use case in cui i dati devono essere assolutamente sincronizzati quindi strong consistency quindi due utenti a due parti opposte del mondo devono vedere sempre esattamente lo stesso dato oppure tutte le gradazioni del caso fino ad eventual che dire io mi aggiorno il mio database poi il sistema dietro le quinte fa degli aggiornamenti fa il sync con le altre region per i carichi laddove la real time il dato sincronizzato non è questi 5 questo spettro così largo nessuno l'ha e questo copre molti use cases generalmente trovi nei database un strong consistency o maybe un bounded ora non vi spiego altrimenti facciamo notte però diciamo questa è un'altra caratteristica quindi la distribuzione sul territorio a portata di click di replica del dato master master o master slave e la possibilità di avere diversi livelli di consistenza del dato quando i carichi sono distribuiti questo fa di Cosmos non un one size fits all questo lo dico sempre ma lo rende perfetto in questi specifici specifici ambiti laddove le performance e il dato distribuito sono importanti e anche la programmabilità delle API e delle SDK come dicevo prima quindi puoi conoscere Java puoi conoscere Go puoi conoscere Python C Sharp scegli le SDK scegli le API e programmi ok Michele io penso che più di qualcuno di noi sicuramente stasera andrà anche solo per curiosità ad aprire il portal di Azure e probabilmente sfrutterà questo free tire sicuramente insomma si no sfruttate free tire esattamente andate fate un google di Cosmos DB vi sono molti GitHub vi sono molti laboratori che noi facciamo abbiamo pubblicato su GitHub dove si sono già dei pacchetti quindi degli applicativi già pronti per sperimentare un po' e rendervi conto però sicuramente siamo come dire e per finire di fronte a una piattaforma che va a soddisfare due esigenze enterprise quindi carichi mission critical e non enterprise quindi più departamentali dove i carichi non sono altissimi il peso dei dati l'accesso ai dati però c'è la facilità dell'entry level e quindi anche programmaticamente molto molto semplice quindi va a coprire un po' questo spettro quindi divertiti sicuramente io ti ringrazio e grazie di averci portato a conoscenza tutte queste novità di Cosmos e penso che siamo tutti curiosi di vedere il tuo repository su Kidab e ti invito se vuoi se hai qualche altro argomento qualche altro approfondimento su Cosmos o qualunque altra cosa sei sì io generalmente esattamente io generalmente prendo i feedback della community quindi se vi sono delle richieste anziché io scegliere un argomento per voi è chiaro che se ci sono degli interessi rispetto alle cose che ho toccato oggi di design o un aspetto più applicativo vogliamo approfondire le funzioni quindi scriviamo facciamo un laboratorio dove vediamo un applicativo più quella che è se è nelle mie corde volentino la nostra community è cross su tutte le tecnologie di Microsoft come vedete stanno girando diciamo le slide con i prossimi eventi infatti per esempio il prossimo evento vedremo il test dell'applicazione in ottica DevOps insieme a Andrea Tosato poi faremo un dettaglio su Azure AKS quindi Kubernetes questo è l'evento di cui parlavo prima Microsoft 365 Day dove vedremo la Power Platform SharePoint Online vedremo tutta la parte di Microsoft 365 non è più Office 365 ma Microsoft 365 sarà una giornata intera dove approfondiremo questo e quello che abbiamo detto prima ci sarà una sessione proprio per crearsi i propri custom connettori custom quello interessante vi arriverà la notifica delle prossime dei prossimi eventi vi arriverà via email ringrazio nuovamente Michele e passiamo alla Selfie Lottery per chi non la conosce Selfie Lottery è lo strumento che utilizziamo per dare i premi i premi di stasera è una licenza di Jetbrain basta scansionare il QR code e fare una foto col proprio cellulare dopodiché passiamo all'estazione avete poco più di due minuti per inviare la foto e fare una foto Michele se vuoi puoi partecipare anche tu ok ci provo pagina non trovata no no ecco c'è Stefano Stefano è uno dei nostri membri della community che ci segue assiduamente che mi pare di vedere anche Domenico e ormai siamo una famiglia dopo quattro anni che facciamo in meetup di solito ci vediamo di persona però ormai questa è l'unica soluzione quella di vedersi ormai e online un saluto a Marco, un saluto a Fabrizio Maurizio Domenico il mio grande collega Gabriele Pannacci che non manca mai anche lui siamo una famiglia te l'ho detto Avinash Dario Totoro e poi ci abbiamo anche un altro grandissimo amico che è Giorgio Lasala che saluto e che lo aspetto perché pure lui fa da speaker perché la community è questo ognuno contribuisce e chi ha voglia di condividere qualcosa condivide anche facendo da speaker allora 20 secondi 20 secondi dimmi, volevi aggiungere qualcosa Michele? no no, dico bello mi piace questo spirito molto ti ripeto è la mia prima volta che vi seguo quindi ho iniziato a seguirvi con molta assiduità da poco allora il tempo è scaduto aspetto altri 10 secondi volevo mandare io la mia foto eccola aspetto io ci sto provando però sarà l'orario non mi dire che non funziona perché è stata collaudata anche a Code Motion allora no, sono io che sto scrivendo guarda poi arrivo pure io certo è ancora in beta questa applicazione però è il mio telefonino che fa allora dammi dammi 10 secondi intanto il gatto di Gabriele Pannacci regna sovrano ora faccio l'estrazione è un gatto famoso beh ma il gatto va beh non ci riesco va beh faccio aspetto un secondo un secondo io do il benvenuto Davinash spero che ti aver detto bene il nome intanto nella chat ti ringraziono tutti quanti mi chiedono di fare selfie lottery su Cosmos DB ci potremmo pensare potremmo provare il free tier con Cosmos perché no perché no mi piacerebbe ho inviato una foto vediamo se si arriva c'è 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 è arrivato vado faccio l'estrazione pronti vai the winner is Giorgio ma che lo sa no Giorgio no è sempre lui no scherzo Giorgio complimenti hai vinto una licenza di Gebrate se mi ricordo della mando no scherzo ti manderò la licenza via email ti ringrazio di di aver partecipato ringrazio tutti di aver partecipato ringrazio Jetbrain per averci sponsorizzato averci dato l'opportunità di offrire questo premio ai ai nostri membri e grazie a tutti vi auguro una buona serata e buona cena a tutti ci vediamo al prossimo meetup la settimana prossima con Andrea Tosato ciao a tutti ciao grazie ancora ciao ciao